1313 è questo il pesante bilancio delle vittime causate da incidenti stradali in Italia numeri in aumento del 14,1 per cento rispetto al 2020 dati che prendono in considerazione il periodo dal primo gennaio al 22 dicembre 2021 a farlo sapere la polizia postale che nell'anno appena concluso ha effettuato in strada 1.457.383 controlli di persone e contestato 1.662.540 infrazioni al codice della strada le patenti ritirate sono state 23.431 e i punti patente decurtati oltre 2 milioni e mezzo è partita ufficialmente la stagione invernale dei saldi sicilia e basilicata hanno dato il via agli sconti il 2 gennaio il 3 invece tocca alla valle d'aosta mentre tutte le altre regioni partiranno mercoledì 5 secondo le stime dell'ufficio studi di conf commercio per lo shopping dei saldi che anche quest'anno interessa oltre 15 milioni di famiglie ogni persona spenderà circa 120 130 euro per un giro di affari di 4,2 miliardi di euro l'impennata di casi di covid 19 dovuta anche alla contagiosa variante omicron ha fatto crollare la spesa degli italiani in bar ristoranti pizzerie e agriturismi secondo quanto elaborato da col diretti il totale risulta pari a circa 60 miliardi di euro nel 2021 in calo di oltre 20 miliardi rispetto a prima della pandemia nel 2019 la situazione di difficoltà del settore si trasferisce a cascata anche sulle aziende fornitrici di prodotti agricoli e alimentari sulle tavole degli italiani dopo le feste di fine anno sono rimasti avanzi per un valore di 400 milioni di euro la stima è di col diretti quasi il 90 per cento delle famiglie rimette nella tavola gli avanzi dei cenoni ci sono anche 8 famiglie su 100 che non avanzano niente mentre una su 100 dona quello che resta in beneficenza per il cenone di fine anno secondo l'associazione gli italiani hanno speso 2,6 miliardi di euro il 52 per cento nel più rispetto allo scorso anno sempre secondo le stime di col diretti al cenone di fine anno c'erano in media 6,3 persone a tavola quasi la doppio rispetto a un anno fa condizionato ovviamente dal limite imposto dal governo e dalla situazione sanitaria di massimo due ospiti non conviventi